Questo non ti riguarda, ragazzi. E sei fortunato che non dica ai tuoi genitori che eri là fuori. Sai che non sai nuotare bene. Posso nuotare bene, papà? No, non va bene. Ok, non dovresti essere da nessuna parte qui vicino, ok? Avevo ragione. Sai cosa? Iniziamo la scuola tra un anno o due. No, papà, solo perché hai paura dell'oceano. Chiaramente, non sei pronto e non tornerai finché non lo sarai. Pensi di poter fare queste cose. Ma hai torto, Dennis. Ti odio. Non c'è niente da vedere. Prendi. Uh, laggiù. Mi scusi, c'è qualcosa che posso fare. Sono un tirannosauro, signore. C'è qualche problema? Mi dispiace, non volevo interrompere le cose. Non è un buon nuotatore ed è un po' troppo presto per lui essere fuori qui senza sorveglianza. Beh, posso assicurarti che è al sicuro con me. Guarda, sono sicuro che lo sia. Ma tu hai una grande classe e si può perdere la vista se non stai guardando. Non sto dicendo che non stai guardando. Oh mio Dio. Dennis, sta in immersione del mare. Dennis. 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 Dennis.